Hai trovato il regalo? Certo, Civas Regal, che ne pensi? Ottima idea, direi il miglior regalo da portare stasera per festeggiare Alberto Tanti auguri Alberto Grazie Ah, Civas Regal, il mio preferito Civas Regal, prestigioso da regalare, raffinato da offrire Il preferito da chi sa che Civas Regal è unico In regalo ho offerto agli ospiti Civas Regal, il più regale dei whisky